Tu immagina un incontro di boxe e uno dei tuoi combattenti con le mani legate, e questa è una vittoria facile. E allora tu immagina un incontro di calcio, undici contro undici, ma quelli di una squadra che giocano scalzi. E anche questa è una vittoria facile. E adesso tu immagina una donna, sola, scalza, con le mani legate, e undici uomini, undici bestie, uno dopo l'altro, che le vanno addosso, che le vanno dentro. Questa non è una vittoria facile. Questa è una violenza su una donna. Oltre 6 milioni di donne italiane, tra i 16 e i 70 anni, hanno dichiarato di aver subito violenza, da parte di un uomo, almeno una volta nella vita. I diritti delle donne sono più calpestati dell'uomo. La violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani. Adesso basta. BASTA! 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 Grazie a tutti.